Massimo, tu dici taxi o taxi? Io? Si dice taxi. Ecco, lo sapevo. Io ho sempre detto taxi. Ma questa volta non mi puoi demolire perché taxi si dice a Londra e imitare gli accenti stranieri, sciocco e volviare. E taxi si dice a Parigi? Ma allora se lo pari? Niente affatto perché in italiano la norma... Taxi lo dicono le mezze calze? Ma non le mezze calze? Errore. I ragionieri... Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito.